signori buonasera a tutti sapete cosa di cosa ho bisogno io di un bel sugo voi volete che vi prepari un bel sugo una bella pasta su qualche sugo io però la preferisco col concentrato però qui si parla di pelati ma sapete perché vi do un indizio mo adesso capirete perché si sono citati dei pelati chi sto imitando io adesso il grande geppo show tutta la serie dei pelati sto imitando geppo show che però in questo momento non ve racconta le barzellette perché non ha tempo è seguito da mitico e irreprensibile giuliano san giorgi renegrammaro vai giuliano simo io ti ringrazio tanto di avermi coinvolto nelle due imitazioni che devo dire che sono fantastiche hai rallegrato pure me la mia famiglia però stai attento a questa cosa qua dei pelati perché avevo sentito un discorso cretino che purtroppo è finito su politicali correct ma tuttavia tu caro simo sei un ragazzo meraviglioso sei fantastico simo meraviglioso e questo che tu sei passiamo al prossimo che è Rudy Zerbi che fa parte della lista dei pelati insieme a me meraviglioso carissimo Rudy Zerbi simo grazie grazie mille per avermi aggiunto a questa lista di imitazioni per di più mi fa anche morire il fatto che tu fai questa battuta qui sui pelati grazie grazie e mi stai facendo venire una fame caro simo avendo anche numerato il sugo che però dobbiamo tenere lontano questo video da a chi cerca di fare una dieta anche se i pelati in sé per sé non sono grassi però è facendoli con la pasta e sì l'unica pasta che si salva da le calorie purtroppo mi dispiace dirlo a chi cerca di mettersi a dieta è quella integrale giusto Andrea il grandissimo Andrea prezioso di cognome di fatto simo grazie tante grazie e bella sta cosa qua di coinvolgere una categoria particolare in maniera particolare quella dei pelati ma perché invece di me non potevi metterci Marvin che ancora più pelato di me e che lui ha iniziato proprio che era pelato io non ti ricordi che capelli al leone in particolare quando mi facevano un cazzà pure il carattere da leone tenevo io simo che sei fantastico comunque buona giornata a tutti e tantissimi auguri a chi fa il compleanno stasera tipo la valentina che però il cognome non si può di perché non è un vip non è un personaggio famoso e purtroppo non si può fare non si può fare ciao a tutti da Andrea prezioso